Bilancio annuale Polizia Stradale. I numeri. 962 le pattuglie impiegate nella vigilanza stradale dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021, che hanno eseguito 4.569 controlli di persone contestando 3.312 infrazioni al codice della strada. Sono stati controllati 866 mezzi pesanti, di cui 260 sanzionati. Eccesso di velocità. 286 le violazioni. Ritirate 48 patenti di guida, 58 carte di circolazione ed i punti decurtati sono stati 5.371. I conducenti sanzionati per guida in stato di ebrezza alcolica sono stati 74, mentre quelli denunciati per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti 14. Il fenomeno infortunistico ha registrato un aumento dell'incidentalità complessiva del 12,30%. 187 incidenti contro i 164 del 2020. In particolare si registra un incremento di 6 incidenti mortali, 7 contro 1 del 2020, 16 gli incidenti con lesioni, 107 incidenti contro i 91 del 2020. Il confronto con il 2020 tuttavia non è realmente rappresentativo del trend dell'incidentalità stradale, ovviamente per i divieti imposti dalla mobilità in funzione del contenimento della pandemia da covid-19. L'andamento del fenomeno infortunistico nazionale ridevato da polizia stradale ed arma dei carabinieri risulta comunque in diminuzione. L'incidentalità complessiva diminuisce dell'11,6%, gli incidenti mortali e vittime diminuiscono del 15,4%. Efficace è stata anche l'attività di polizia giudiziaria, che nella provincia biellese ha consentito di assicurare alla giustizia complessivamente 73 persone, di cui un arrestato, 72 denunciate in stato di libertà. Sono stati sequestrati circa 130 grammi di sostanze stupefacenti. Gli esercizi pubblici controllati sono stati 29 con 20 infrazioni rilevate. Numerose sono state anche le campagne di educazione stradale con cui la polizia stradale ha promosso la cultura di una guida consapevole ai giovani studenti della provincia biellese.